Allarme truffa a Battipaglia. Alcune persone infatti stanno chiedendo denaro a nome del comune di Battipaglia in favore della popolazione ucraina sconvolta dalla guerra. Le truffe in questione avvenute nella zona di via Mazzini e nei pressi di alcuni supermercati sono state segnalate alla polizia locale e alla protezione civile. Comune e protezione civile per questo hanno precisato che non è in atto nessuna raccolta, invitando la cittadinanza tutta a non abbassare la guardia ed informarsi affidandosi alle raccolte e alle pagine ufficiali del comune, della sindaca Cecilia Francese e della protezione civile e a segnalare immediatamente ogni tentata truffa alle forze dell'ordine.